Seconda parte di Caffè Bollente, ci spostiamo dal comune più grande interessato alla fusione a quello più piccolo. Come avrete già capito e capirete, le dimensioni dei due comuni, le differenze che ci sono tra Bibbiene e Ortignano, sono ovviamente uno dei temi fondamentali nel dibattito in vista del prossimo referendum. Ascoltiamo allora intanto il sindaco di Ortignano Raggiolo, Fiorenzo Pistolesi. Siamo con Fiorenzo Pistolesi, il sindaco di Ortignano Raggiolo, un altro dei due comuni protagonisti di questo referendum per la fusione con il comune più grande di Bibbiene. Sindaco, partiamo con una domanda semplice ma anche allo stesso tempo complessa. Com'è fare il sindaco di un comune come Ortignano Raggiolo? Ha ragione lei, è complesso, non la domanda, è proprio complesso amministrare perché in questa terza amministrazione che ho piacere di amministrare è diventato veramente complicato ed è veramente difficile portare avanti una struttura così microscopica come è il comune di Ortignano Raggiolo, una realtà che oggigiorno purtroppo le direttrici sono altre e amministrare un comune così piccolo in realtà casentinese è diventato veramente complesso. Lei si è schierato appunto per il sì, quali sono le motivazioni principali che le hanno portata a pensare che sia meglio votare sì? Ecco, riprendendo l'argomento di prima, è semplice, nel senso che dopo pochi mesi che avevo ripreso possesso dell'amministrazione mi sono reso conto, differentemente dalle altre precedenti, che le energie e le risorse transitabili nel comune di una realtà come quella di Ortignano Raggiolo sono veramente insufficienti per la sussistenza minima degli abitanti, dei miei abitanti. Quindi ho fatto di necessità virtù, semplicissimamente, razionalmente, non mi posso esimere da rapportarmi con i miei cittadini e onestamente dire loro, non ho le possibilità per darvi un futuro migliore rispetto all'attuale, se non tramite l'occasione che ci è proposta facendo la fusione con un Bibbiena, ma indipendentemente anche dal lato economico, proprio a livello strutturale e mentale, vorrei che i miei cittadini comprendessero la bontà dell'operazione proprio per pensare di fare sistema, perché oggigiorno se non interponiamo il sistema, il fare gruppo e avere degli obiettivi comuni, siamo veramente fuori spiazzati. Quali sono le principali argomentazioni del no e perché le contesta? L'argomentazione principale è l'appartenenza, la mancanza, andremo a perdere l'appartenenza, andremo a perdere, a parte poi che veramente stanno veicolando anche delle voci, mi permetto di dire false, nel senso che dicono che chiuderà il municipio, chiuderà la farmacia, chiuderà la posta, questo non è assolutamente vero e anzi, io credo che l'appartenenza e pensare a un territorio come le tradizioni che io ho sempre avallato nelle amministrazioni precedenti, anche nel limite del possibile, anche in questa di adesso, ma hanno bisogno questi veicoli di risorse e quindi si torna sempre lì, la pochezza delle risorse purtroppo stanno stringendo in una morsa tutto quello che è l'operatività minima anche di un apparato come può essere il Comune di Ortigiano Raggiolo, quindi i motivi del no sono veramente risibili, nel senso che non le comprendo perché l'appartenenza, la tradizione sono cose che purtroppo oggi la visione economica del futuro ci porta verso altri orizzonti, insomma non possiamo limitarci al passato, il passato purtroppo bene quello che è avvenuto in passato, anzi sono orgoglioso di appartenere a quella terra, lo sarò sempre, però proprio per questo vorrei che la cosa fosse migliorabile almeno nelle nostre piccole risorse. Senta, soprattutto nelle comunità locali si avverte la sensazione che si siano persi i punti di riferimento verso i grandi partiti, verso i partiti più rappresentativi e che quindi i sindaci in questo momento si trovino a prendere delle decisioni in maniera autonoma, è successo così anche per lei? Ha ragione, non so come ha fatto a percepire questa sua sensazione ma la posso confermare in pieno, nel senso che purtroppo ho anche seguito personalmente una vicissitudine interiore a livello politico che mi ha portato a fare anche delle decisioni drastiche e ne sono tra virgolette anche contento di averle effettuate in un recente passato, però la politica, l'amministrativa politica del Casentino, parlo della nostra terra, è veramente mancata, sta mancando il coagulo politico, sta mancando una percezione del bisogno della gente dove la politica è completamente assente nei nostri territori. Io mi auguro e spero che anche questa tematica della fusione sia lo scopo anche primario per riappropriarsi, la politica si deve riappropriare di queste tematiche perché una gabina di regia politica è indispensabile in queste fasi storiche che stiamo attraversando. Come si affronta secondo lei la problematica che avvertono le piccole comunità come la sua dello spopolamento, del sempre minor numero di abitanti e il sempre minor numero di giovani? È una conseguenza logica di come dicevamo prima, di cosa dicevamo prima, nel senso che i miei giovani, i nostri giovani per esempio del Casentino non avendo opportunità perché purtroppo in Casentino sta avvenendo un riflusso della crisi in questi contesti, in questi periodi, forse l'abbiamo subita ritardata la cosa e adesso siamo nella piena fase veramente di recessione in Casentino, quindi lei capisce bene che il giovane, il neolaureato, il neodiplomato delle scuole che abbiamo su ancora come presidio non ha l'occasione di rimanere nel territorio ed è una cosa che è veramente brutta e drammatica perché le migliori energie se ne stanno andando, ci sono dei giovani che addirittura vanno verso l'estero, quindi è un'emoragia che va in tutti i modi fermata. Tre sintetiche ragioni per votare sì al referendum? Il futuro, avere una percezione reale del nostro futuro, due, tre obiettivi primari come abbiamo noi identificato senza fare voli pindarici, noi abbiamo identificato in un plesso per gli anziani, nel plesso scolastico e nel dare un futuro territoriale, un'immagine nuova del territorio di Ottignano Raggiola a livello turistico, ambientale e naturalistico e in queste tre macro aree individuare i bisogni della gente perché ne abbiamo talmente bisogno perché la mia gente deve essere almeno alla pari degli atti del Casentino, almeno come opportunità offerte, poi vediamo cosa dice la gente l'11 e il 12 di novembre. Grazie. Grazie a voi. E come di consueto e ovviamente come ovvio da Parcondicio abbiamo ascoltato anche le ragioni del Comitato del No di Ortignano Raggiola e anche in questo caso ascolteremo per quale motivo da parte di questo gruppo di cittadini c'è opposizione al progetto di fusione. Ancora l'ultima intervista, il grande lavoro che ha fatto questa settimana e lo ringrazio di Diego Di Polito. Siamo con Emanuele Ceccherini che è il portavoce del Comitato del No alla fusione tra i comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo. Si voterà l'11 e il 12 novembre. Ceccherini, lei sostiene, come abbiamo appena detto, le motivazioni del No. Quali sono queste motivazioni a votare No alla fusione tra i due comuni? Sì, io da sempre mi batto per questa cosa perché Ortignano Raggiolo, anche se è un piccolo comune, comunque è un comune dove le cose secondo me funzionano bene, dove diciamo siamo un comune virtuoso anche a livello di bilancio, per quanto risulta a me, anche se i promotori del sì ritengono il contrario. Io mi sono informato anche a livello di uffici comunali e non appaiono difficoltà economiche da questo punto di vista. nonché siamo un comune che abbiamo una scuola con 160 bambini, un comune di 800 persone, una scuola di 160 bambini, fra materna e primaria. Quindi siamo l'unico comune, credo, del Casentino ad avere la raccolta differenziata sopra la media regionale, quindi abbiamo una bandierina arancione. e quindi io non ho mai capito il motivo per cui dobbiamo, come dico sempre io, rinunciare a questo spazio democratico. Uno spazio democratico che a noi ci permette di prendere le decisioni da noi e di poter sedere in dei tavoli dove non potremo più sedere. Quindi avendo questa fortuna io non capisco il motivo per il quale noi dobbiamo rinunciarvi. Ecco, questo è un po'... I sostenitori del sì dicono anche che la fusione porterebbe dei vantaggi economici. Sì, probabilmente questo qui è l'unico argomento che possono tirare fuori perché io anche su questi qui ho dei fortissimi dubbi perché loro parlano di 20 milioni di euro che vengono erogati come premio fusione dal Ministero da Roma e dalla regione, che però vengono erogati in un periodo di 10 anni. Sono comunque soldi che non sono. Loro parlano di questi soldi e ovviamente dal loro punto di vista parlano del massimo che può essere concesso a questa fusione. però l'andamento politico nazionale ci fa vedere che al governo ci sono delle forze politiche che sono molto legate al territorio e che quindi non è detto che confermino questi contributi nei prossimi 10 anni. La stessa cosa succederà in Regione, fra un paio d'anni mi sembra si va dal voto e quindi anche in quel caso lì potrebbero essere ridotti. Quindi, come diciamo sempre noi nelle riunioni, questa qui è un po' una doppia fiducia che i cittadini di Ortegnano Raggiolo dovranno dare a questi signori del sì. Una doppia fiducia in bianco, secondo me. In bianco perché? La prima fiducia, come ho detto, è di questi soldi che non si sa se e quanti saranno erogati in caso di fusione. E la seconda, secondo me molto più importante, è per il fatto che il comune di Ortegnano con la sua popolazione che rappresenterà solo il 6,7% di questo nuovo comune non avrà nemmeno la possibilità di eleggere un consigliere. E quindi questi soldi, questo premio di fusione, se, ripeto, verrà erogato bisogna vedere poi chi governerà se deciderà di spenderlo a Ortegnano. Qual è il timore che il comitato del no ad Ortegnano Raggiolo avverte maggiormente rispetto a questa fusione? Sì, il timore maggiore, come dicevo, è quello lì che anche se arrivassero dei soldi bisogna vedere se poi chi governerà per noi, perché ci sarà qualcuno che governerà per noi, perché noi non avremo nemmeno un consigliere comunale in comune. Quindi chi governerà per noi le spenderà nel nostro territorio. Mentre adesso, come comune montano, piccolo, abbiamo tante possibilità a livello premiale per raggiungere anche dei contributi che spettano ai piccoli comuni, per partecipare a dei bandi. Noi siamo in fascia D, quindi nelle classifiche dei bandi automaticamente andiamo sempre nei primi posti. Quindi una cifra che, se si fa la proporzione, se facciamo il conto della serva, dovrebbe andare a parare sui 138 mila euro l'anno a Ortegnano. Se ovviamente il nuovo comune deciderà di spendere a Ortegnano. E con dei bandi, GAL, regionali, statali, amministrando nella maniera giusta, sono spiccioli. Secondo me con i bandi si riuscirebbe a prendere molto più sordi come comune piccolo che a vendersi a una fusione e quindi dare una doppia fiducia in bianco a questi signori. Avvertite anche il timore di una perdita di identità del comune? Ma questo è ovvio. Questa qui è la cosa più importante perché io sento dire anche dai nostri amministratori che loro spingono per il sì. Ripeto, ci sono gli ultimi tre ex sindaci che spingono fortemente per questa fusione. Noi da liberi cittadini, anche all'ultimo referendum, siamo riusciti quasi a raggiungere un pareggio. Quindi capisci bene che in un contesto così piccolo i rapporti personali contano. Quindi noi abbiamo una sfida abbastanza difficile da fare. Però l'altra volta abbiamo avuto un buon risultato, questa volta essendo più organizzati. Poi la fusione questa volta ha molti meno vantaggi. Raggiungiamo 15.000 abitanti. Da 12.200 il comune di Bibiana diventerà 13.000. Quindi non cambierà niente anche a livello di potere politico del nuovo comune. Quindi questa volta speriamo di raggiungere un buon risultato. E comunque sia che sia positivo o che sia negativo per noi, a Ortignano ormai ci sarà una spaccatura nella comunità che secondo me sarà difficile ricuscire e risarcire.